teleconto meglio esterna 2 siamo passù a 2600 metri alle prese dell'acqua del rifugio Mulas allora quest'anno c'è pochissima neve e come si può vedere non è che corra poi tantissima acqua qui abbiamo pulito il primo la prima vasca di decantazione qui l'acqua decanta si deposita il materiale poi prosegue lungo questa canaletta c'è una griglia che fa da fermo per materiale che casomai andasse a muoversi durante i temporali questa è un'altra vaschettina di decantazione ripulita appena adesso con la app apposita dovete scaricare una app sul telefonino per ripulire queste cose qua quando è piena tracima ed entra nel vascone principale eccolo qua che però va ristuccato infatti qua dentro c'è un drone anche anche questo va comandato con l'apposita app che oramai fa tutto il smart working sentite come lavora il drone col frattazzo quest'anno il gestore saprà un profumo particolare perché sarà difficile farsi dolce visto che siamo a fine maggio e abbiamo abbiamo già scarsità va bene speriamo bene previsto temporale al pomeriggio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti